Sì, sì, gli horror sono belli, giallo, però gli horror appunto fa parte comunque della sezione variety Fai proprio diversi giochi, però quando ho provato a fare io variety non è che andava così tanto Ma ci sta, è normale Ma tu è molto verticale, è molto verticale Fortnite, e ci sta Marti Sì, sì, a voglia Il problema è che, l'ho detto, in questo momento le persone sono un po' distratte, vedono altro, gli interessa altro I salottini, le cose Un po' ripeto, i giochi non è che si stanno facendo vedere, cioè nel senso, come ti posso dire Non è che stiamo avendo da me Morto Io veramente potrei impazzire con questo gioco 40 20 Ai mori, santo Dio Grazie Ok, attualmente io non vedo, ma sicuramente guarda Eh, qualche stonzo ci sta, eh Guarda me, guarda me, guarda me Magari 19 Marti, uno l'ho fatto Vai, vai Guarda, guarda, guarda E vede così, diciamo che non potevo stare, ma fa veramente defegare la guerra I DMR? Ma Eh, fa un danno porco, però è lento, lento, lento Eh, no, non va bene Martina, cioè nel senso, ok, va bene tutto, ma da vicino che gli faccio Eh, no, no, nulla Martita moscia, posso dirtelo, però occhio che è un po' stacchettina, eh Eh, sì, infatti ce ne sono un po', ho visto uno sparare lì Anche perché prima sono arrivato Platino 3, quindi Guarda, sono in realtà il mirino senza tracce Fallo, mi Eh, me l'ho provato, ma Peso l'arbero, vaffanculo Beh, comunque Mi piacerebbe trovare molti meno scicchietti I fight sono tutti uguali, te lo giuro Sono troppi, sono troppi No, sono uguali, sono proprio uguali Anche in build, te lo giuro io, non per qualcosa Non c'è un fight che perdo in box o da vicino perché sono tutti a distanza Tutti, tutti, tutti Sono d'accordo, ma io pure l'ho sempre detto Sono troppi, troppi cecchini Non esiste Anche perché è sbloccato, c'è pure tre colpi Occhio cecchino, occhio cecchino Ma che c***o fa? Se entrano sono morti, non è un problema Sì, no, ma infatti siamo tranquilli Ma non ho capito, stanno volando? No, no, è qua, è qua, è qua Ok Marti, per me possiamo rimanere qui dentro senza problemi C'è? Altra macchina? O entrano con la macchina? Se entrano con la macchina è divertente Sì Ma voglio capire che fanno Ha messo la macchina Martina, io che cosa c***o sto vedendo? Tanto io Tanti ho pure l'impulso, quindi non ce ne frega niente Ma anche io, ma voglio capire che cosa stanno facendo Che cattica è? Ah, vogliono farla scoppiare Beh, la metto qua Eh ragazzi, quindi che avete concluso? Non ho capito C'è chi è nato, andiamo Metto una bubble così possiamo uscire tranquilli Eh raga, che avete concluso? Non ho capito Minchia, fortissimo, bro Ma che c***o? Diario di noi? Altri, eh 120 120 120 in volo? 22, fatto No, ma non sbaglio Allora, l'idea della macchina, dico la verità, era carina Però Io non ho capito Eh là, io Ci mira No, c***o, headshot nelle bush Ok, sto citando Nelle c***e Headshot nello c***e bush Dello c***e bush Buonasera, come stiamo, bella tonsella? Che fai, bro? 50 208, quindi è praticamente white 105, noccato Passi da me Ti devo alzare la sensibilità di mira, per favore E non ho caricato Ok Uno qua dietro Ti sto a Marti A Marti, sono due Metto un portatile Sì, 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 brava Ah, ma si stanno trombando Ma che bella idea Complimenti 105 Morto Martina C'è stato uno che ha avuto una grande idea Sì, ho visto Guarda di Zeus Ha detto te che c'è Io quasi quasi faccio Zeus Ho visto, ho visto Vabbè, uso di c***e Guarda che ci sta qua Mi Ah Però devi mettergli Non c'è il perk Quello del caricatore incrementato Guarda che c***o Sono ancora lì, sono ancora lì, sono ancora lì Sì, sì, sì Martina, mi hai percciacciato la macchina E buona Eeeh, può essere Ah, chi ero, eh Ah, Martina 120 Morto Martina, sono andato via Perché non voglio Dare fisicamente il cadavere No, vabbè Martina, sono veramente Una persona molto speciale Posso dirtelo Martina, me lo pinghi? Guarda me Hai cecchinato? Sì, ha questo Mamma mia ragazzi Vedete, stavo scappando perché Ed è stata Ed è stata un'ottima cecchinata E ti dico anche il perché Lo vuoi sentire, Martina? Sì, sì, tutto, vai Frutto del change della sensibilità Perché io ho dato lo schiaffo Io lo chiamo lo schiaffo Lo schiaffo proprio quello Disrespect No, no, lo schiaffo Non so come spiegartelo Però è quando mili pochissimo E lo cecchini in In rotazione Cioè non rimani ferma Sì, 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 ho capito 120 120, knock 118 118 Gente, eh? No, si è crashato Sì, mi è crashato il gioco No, ragazzi Guardate Mirko che sta volando Sembra Gesù Non ci credo Martina, non mi è mai crashato Fortnite Mi è crashato Fortnite No Eh, ragazzi Ho cacciato per Mirko qua Allora I will do my best Martina Io potrei Impazzire Che poi tu c'hai Due medaglioni ho visto Sì Allora aspetto che muori Sto crash Succede spesso anche ma E sai dove si è crashato? C'era un medikit proprio dentro Proprio dentro Ho un passo da te C'era il kit Non ci credo Come faccio? A fare la verifica? Non mi ricordo Mortacci di... Comunque l'hai detto Mortacci di Fortnite Questo è il karma, eh? Sì, no, no Questa è Matilde Questa è Matilde Che stava là A fare le macumbe Dici? Sì, sì Ha detto sì Vai a f***lo La cosa buona è che C'è il coso di Cerbero Quindi sono un po' più tranquilla Sì, è vero E devo ricordarmi Che se finisco uno C'ho il siphon Ma frega tutto sto macello Speriamo bene che... Oh, ah, non ho caduto uno Quindi quello del... No, no Quello del murino Era una tua E minchia E vai te ne sopra Non conviene Che te ne vai un attimo sopra Tanto se vuoi te non la corda Tanto sono col cecchino Quindi vado in zona E li cecchino io Faccio così Boom, 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 boom È in zona Ok, facciamo una cosa Sì, hai ragione dopo Vai su, l'hai chiusa A me cagare Let's go Eh, raga, questo era easy win Cioè, avevamo rotto il c***o tutti E per quello che ti ho detto Vai su Perché tanto si dovevano Fai dare per forza Fai dare per forza Fai dare per forza